Guidando la ricerca scientifica nella giusta direzione, la plastica pulita oggi non è più un sogno irrealizzabile. Naturalmente nella catena dei grandi rifiuti, diciamo, di cui disponiamo, che possono persino essere ricchezza, non poteva che mancare la gomma, quella delle nostre automobili, dei nostri camion. Ci ha raggiunto Giovanni Maria Delisi, eccolo qua. Ciao di lì, grazie. Un imprenditore che ha fatto della gomma con un'intuizione geniale, no? Perché siamo partiti, Giovanni, da questa idea che appunto per liberare le nostre città dai gas di scarico, delle automobili, bisogna, si dice spesso, usare la cura del ferro parlando delle rotaie. Però invece voi avete aggiunto a quella del ferro quella della plastica nel ferro, ovvero avete creato un'azienda che si chiama Green Rail, che significa appunto binario verde. Verde. Ecologico. Cos'è fatto, com'è fatto, che cos'è? Diciamo che noi abbiamo creato un prodotto che è una traversina ferroviaria utilizzando quello che è il rifiuto derivante dal trasporto autostradale, quindi stradale, quindi pneumatici fuori uso, abbinandolo a quello che è la plastica da raccolta urbana, quindi dal rifiuto urbano. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, di quanta plastica e di quanti pneumatici avete bisogno per per esempio costruire le vostre traversine? Le traversine sono quelle strutture che compongono il binario, antichamente erano in legno, oggi sono in calcestruzzo, le nostre sono in plastica e gomma riciclata, per ogni chilometro di linea riescono a riciclare 35 tonnellate fra plastica e pneumatico. Quindi 17 tonnellate e mezzo di pneumatici e 17 tonnellate e mezzo di plastica. Quindi in particolare, questa che cos'è? Questa sostanza nera che sembra una farina? Questo è polverino di gomma, quindi il risultato è la triturazione dei pneumatici fuori uso. Questa qui invece è un po' più grigia, un po' più grande? Questo è un compound di plastica da rifiuto urbano, quindi tutta la plastica che noi gettiamo nella spazzatura, questo è il risultato, insieme con una composizione chimica che abbiamo studiato con Politecnico di Milano, viene fuori il nostro compound che poi viene stampato in iniezione per creare le nostre traversine. E questa è una specie di sostanza, diciamo che pressata, immagino con un brevetto particolarmente sofisticato, una tecnologia più sofisticata, consente di avere queste traversine incredibili che pesano ciascuna? Per l'alta velocità abbiamo dei prodotti che vanno fino ai 380 kg ciascuna. Eccole, guardatele qui all'opera, naturalmente, lasciami immaginare, un treno ad alta velocità o anche convenzionale che passa su queste traversine probabilmente oscilla di meno, fa meno rumore? I vantaggi sì, sono meno vibrazioni, meno rumorosità, oltre a minori costi di manutenzione, perché noi diminuiamo quello che è la polverizzazione del ballast, il ballast è il pietresco che sta al di sotto dei binari e che a lungo andare si va rovinando. Noi diminuiamo questo problema e quindi allunghiamo la vita utile della linea ferroviaria. Senza esagerare nel darci i complimenti, siete partiti come piccola start-up italiana e oggi siete diventati un'interlocutore serio con un contratto molto importante. Quale paese? Noi abbiamo appena chiuso il primo contratto di concessione di licenza di brevetto negli Stati Uniti. Il nostro brevetto oggi è definitivo nei 80 paesi nel mondo e siamo stati anche fra i 10 progetti migliori dell'Expo di Astana in Kazakhstan. Quindi stiamo anche cominciando a lavorare anche lì in Kazakhstan e oggi le richieste arrivano dall'Australia al Giappone, al Brasile, al Sud America e stiamo crescendo, stiamo assumendo, proprio perché le richieste sono talmente tante e stiamo, diciamo, non siamo più una start-up, ora stiamo cominciando a diventare, come si dice, una scale-up. Giovanni Maria Delisi di Green Rail, il binario verde che sta conquistando il mondo, che potrebbe conquistare anche il nostro paese. La prova definitiva che anche un rifiuto può essere, diciamo, utilizzato come risorsa, lo abbiamo visto durante tutto il corso della puntata, rifiuti ingombranti che avvelenano la salute, che possono poi, sebbene utilizzati, invece diventare una grande ricchezza per il nostro paese. Noi naturalmente vi salutiamo qui e vi diamo appuntamento al 17 febbraio, siamo al sabato successivo a quello prossimo, perché c'è Sanremo, naturalmente non andiamo in onda e naturalmente non mancate sempre con noi Around Midnight Petrolio!